Non più di due bicchieri al giorno di vino per gli uomini e di uno per le donne. Eh no, è belli. Portami il mio computer per fuori, adesso mi fate venire il dubbio. In Italia il consumo è meglio, giur... Le quantità sono massime... Va bene. Vi voglio dare dieci consigli, così poi partiamo con i consigli. Bella. Le persone sovrappese, obeso. Piatto o pasto? Piatto. Ma no, devono essere di origine vegetale. Forse non posso cambiare la frase, è quella. Ecco, eh... Avete paura degli acquedotti? Perché? Eh, eh... Il caffè è un grande alleato... Non era bella? No, mi piace? Non dimentichiamoci inoltre che... Non dimentichiamoci inoltre che le... Non dimentichiamoci inoltre che le... Via! Per concludere, per concludere, un'acqua... Per concludere, amici, abbiamo bisogno di un'acqua con alto concent... Ah, dimenticavo! Ma... Non dimentichiamoci inoltre che le... Ma... Non dimentichiamoci inoltre che i nostri... Grazie a tutti